A quanto pare gli stranieri con le telecamere non sono ben visti, meglio telare veloce Ciao sono Daniele per gli amici subri e sono in partenza da Parigi ma prima di partire mi è venuta un'idea Perché non girare per i classici mercatini delle pulci che qua sono veramente tanti e ce ne sono alcuni di veramente veramente particolari e stupendi? Fermi tutti ma siete iscritti al canale? No! E cosa state aspettando? Iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi contenuti che farò uscire perché esce un contenuto al giorno su come comprare, vendere, guadagnare e risparmiare online Negli scorsi video avrete visto che sono stato a caccia d'affari nei mercatini dell'usato di Parigi per quanto riguarda i vestiti anche ad acquisti al chilo Ma poi ho fatto anche un giro per i classici mercatini dell'usato e per quelli dei videogiochi Ma la domenica non mi sono lasciato sfuggire un'occasione fantastica ovvero un giro tra i mercatini delle pulci di Parigi E devo dirvi la verità che è stato tutto molto assurdo ma non voglio spoilerarvi nulla quindi partiamo con l'avventura La prima tappa l'ho fatta sulla Senna in un mercatino delle pulci molto interessante con delle tensostrutture poi oltretutto sempre montate per poter ospitare i venditori Purtroppo però non ce n'erano tanti di questi espositori nonostante secondo il sito il mercatino era già attivo da una mezz'oretta Gli espositori quelli che c'erano erano veramente preparati ed avevano un sacco di cose interessanti tra vintage e anche homemade Tra tutti gli oggetti vintage ce n'erano alcuni veramente particolari ed interessanti ma l'unico problema è che come capita anche in Italia La maggior parte dei prodotti non aveva il prezzo esposto e di qualcosa ho anche chiesto il prezzo ma non era così abbordabile Ad un certo punto mi sono anche imbattuto in una bancarella piena di libri dvd e vinili veramente interessanti Purtroppo però nulla di acquistabile per rivendita e l'ultima bancarella mi ha lasciato a bocca aperta perché c'era anche un po' di elettronica E un sacco di telefonini e Walkman vecchi tutti a 5 euro Sono stato anche tentato dall'acquisto ho chiesto un paio di informazioni ma non mi ha garantito il funzionamento quindi direi anche no Giustamente potresti chiedervi e tu come fai a Parigi a sapere che ci sono dei mercatini delle pulci come in Italia? Beh semplicemente perché ho scoperto un sito stupendo che vi lascio in descrizione nel quale sono racchiusi tutti i mercatini che ci sono a Parigi e dintorni E potete cercarli e filtrarli anche per giorno ma soprattutto per tipologia ad esempio quelli stabili, quelli fatti dai privati e quant'altro La seconda tappa di giornata l'ho fatta in un mercatino molto interessante proprio al centro di Parigi E purtroppo come vedete dall'asfalto ha iniziato un po' a pioviginare infatti tanti venditori hanno iniziato a coprire le varie bancarelle con dei teloni Ma comunque ho potuto dare un'occhiata a tutto quello che ci ha risposto Questo mercatino penso sia il più spettacolare e forse anche quello più interessante perché proprio al centro di Parigi ci sono tre strade che si uniscono che vengono chiuse e i privati si mettono a lato e iniziano a vendere Hanno subito attirato il mio interesse le bancarelle dove spuntavano oggetti di elettronica e anche videogames Nelle quali ho trovato un sacco di oggetti interessanti ma purtroppo nessun affare da acquistare Tra le tante cose interessanti c'era anche una bancarella piena di carte Pokémon Nella quale però c'era un bambino che le stava scartabellando tutte e quindi ho lasciato passare un po' di tempo Poi ho fatto sì che lui finisse di vederle tutte per poi tornare successivamente io a vedere se c'era qualcosa di interessante E purtroppo non c'era nulla di che ma soprattutto erano molto maltenute Andando avanti per la via dalla quale ero arrivato mi sono reso conto che questo mercatino era veramente enorme Praticamente si estende su queste tre strade e nonostante i teli che coprivano le bancarelle mi sono perso a vedere un sacco di oggetti interessanti Infatti mi sono imbattuto in delle bancarelle di solo vestiario venduto da gente molto stravagante ma dai prezzi decisamente interessanti Se passate per Parigi questa tappa è assolutamente da fare ma andiamo al prossimo mercatino che direi alquanto particolare Purtroppo in questa zona di Parigi stava piovigilando il giusto e sono arrivato in questo mercatino nel quale c'erano delle cose usate Ma ho notato anche un sacco di venditori che vendevano già di nuovi e più mi addentravo e più mi sentivo osservato da tutti questi venditori ambulanti Che continuavano a guardarmi e parlare tra di loro Dopo un po' mi si è avvicinato un ragazzo che mi ha chiesto se fosse interessato a dei vestiti di marca e degli accessori della Apple Direi tutti molto poco originali E uno da dietro gli ha urlato qualcosa lui mi ha guardato male e poi se n'è andato Da lì in poi la situazione si è fatta sempre più tesa e molto ambigua A quanto pare gli stranieri con le telecamere non sono ben visti meglio telare veloce Allora di oggetti interessanti ce n'erano anche ma la zona non è bellissima Poi magari mi ci sono trovato male solo io e se ci andate voi non succede assolutamente nulla Però direi che è meglio passare alla tappa successiva o forse no Arrivato nella zona nella quale ci doveva essere il mercatino delle pulci sono rimasto un po' spiazzato Perché sono arrivato in una zona dove c'erano solo bancarelle di frutta e verdura E ogni tanto qualche sporadico venditore di roba sempre molto poco originale Finita però quest'area mi sono ritrovato in mezzo ad un vero e proprio mercato Con tantissimi oggetti nuovi a prezzi veramente stracciati A un certo punto mi sono anche imbattuto in un rivenditore di valigie E ci ho fatto un serio pensierino di acquistare qualcosa perché era veramente molto economico Solo 8 euro per una valigia a quelle proprio a forma di sacca Peccato che non avrei potuto portare altro bagaglio con me Altrimenti quello era un acquisto assicurato Proseguendo la mia corsa per questa distesa infinita di banchi Sono rimasto veramente affascinato dalla quantità di venditori Che vendevano qualsivoglia tipo di oggetto a prezzi veramente imbarazzanti In mezzo a tutti questi banchi c'era addirittura qualcuno che vendeva del cibo Sembrava quasi a stock E altri che vendevano abbigliamento a 50 centesimi al pezzo E da quello che ho capito le valigie vanno anche un sacco Perché c'era un altro rivenditore che non era preso d'assalto come l'altro Però vendeva delle valigie rigide tra i 30 e i 40 euro Anche qui direi ottimi affari Poi ho visto anche che c'erano letteralmente delle bancarelle prese d'assalto Da persone che volevano degli oggetti a 50 centesimi un euro Ma proprio c'era la ressa di gente che voleva accaparrarsi il pezzo migliore al prezzo migliore Ho girato e stragirato in questo mercato e vi assicuro che è enorme E veramente una distesa infinita di banchi non finiva più E più andavo avanti e più mi chiedevo ma la parte dell'usato dove sta? Finita questa zona di bancarelle e di oggettistica nuova Mi sono reso conto che dall'altra parte della strada c'era un via vai pazzesco di gente E in effetti c'era un mercatino delle pulci abbastanza spartano e forse anche poco lecito Ma comunque mi ci sono avvicinato ed era una via praticamente piena di venditori Con teli buttati per terra e sopra questi teli c'era qualsivoglia tipo di oggetto a capi d'abbigliamento Elettronica provenienza lecita? Io non credo Ho provato a dare un occhio anche a dei computer portatili ma purtroppo il tizio non aveva le idee ben chiare sul funzionamento di questi computer Quindi ho un po' lasciato perdere Oltre a questa bancarella che aveva oggetti di elettronica Tanti altri avevano oggetti come videogiochi e console Infatti una ragazza aveva una Wii con anche dei giochi Mi sono avvicinato, ho dato un'occhiata ai giochi, lei mi ha chiesto se mi interessava qualcosa Gli ho chiesto i prezzi e devo dire che le console erano veramente carissime fuori di testa Probabilmente rubate da qualcuno lì vicino A questo punto mettimela un pezzo stracciato, inutile mettermele così care E i giochi erano economici però rigatissimi Infatti ho lasciato perdere Però vi dirò che questa zona nello specifico tra le bancarelle con i prezzi stracciati Ai quali veramente si può fare un sacco di acquisti per poi rivendere oggetti nuovi Perché quei capi d'abbigliamento a 50 centesimi al pezzo Penso su Vinted o anche su altre piattaforme si possono rivendere tranquillamente a 4-5 volte tanto Ma anche gli oggetti usati comunque di questi negozianti un po' ambigui e buttati lì Beh hanno del potenziale C'è qualcosa di interessante che non sono stato a contrattare e prendere Perché poi la situazione dopo un po' non mi è piaciuta più di tanto Ovviamente tenete sempre conto che ero palesemente uno straniero Buttato lì in mezzo con un cellulare, un treppiedi E forse avrei anche dovuto cambiare tipologia di ripresa O perlomeno riprendere comunque col cellulare senza usare il treppiede Perché forse dava un po' troppo nell'occhio Ultima tappa di giornata in un mercatino che era in chiusura Ma sono arrivato giusto per dare un'occhiata a tante cose molto interessanti Sempre gestito da privati ma questa volta decisamente tutti meno loschi In questa zona si possono trovare un sacco di vestiti ben tenuti E anche dai prezzi abbordabili ma soprattutto tanto vintage e oggetti d'epoca C'erano anche molte bancarelle con degli oggetti di elettronica Ma anche DVD, videogiochi e quant'altro E mi sono perso a guardarne tante Però purtroppo i prezzi erano abbastanza giusti Ho dato anche una veloce occhiata a un banco che mi ha fatto sognare Pieno di oggettistica Pokémon e games Ma questo si vedeva che era un professionista Infatti aveva dei pezzi veramente belli, ben tenuti Ma dai prezzi molto giusti anzi anche un po' sovrapprezzati Quindi purtroppo non ho trovato nulla da poter comprare per poi rivendere Però devo dire che questo mercatino qua mi è dispiaciuto onestamente Non esserci andato prima Perché secondo me è un mercatino dal grosso potenziale Se ci fossi arrivato la mattina avrei trovato un sacco di oggetti interessanti in più In descrizione oltre al link per poter vedere tutti i mercatini dell'usato di Parigi Vi lascio proprio i link di Google Maps dei mercatini dove sono stato io Così potrete capire la zona e magari se passate per Parigi una domenica Andare anche a voi in uno di questi particolari mercatini delle pulci Io spero di avervi intrattenuto e spero vi abbia fatto piacere questo giro per i mercatini di Parigi Purtroppo non ho trovato nulla da comprare per poi rivendere ma chissà alla prossima avventura Purtroppo non ho trovato nulla da comprare per poi rivendere ma chissà alla prossima Grazie Grazie Grazie